Ciao ragazzi, oggi è un video velocissimo ma volevo aggiornarvi per quanto riguarda la situazione anniversario di Genshin Impact. Sappiamo che in questi due giorni sono arrivati dei regali, ieri infatti è arrivato il primo di 4 pacchetti totali in regalo nella mail, contenente un paio di ali e 400 primo, oggi invece sono arrivate 400 primo e 2 resine. In particolare le ali che abbiamo ricevuto ieri fanno parte di un bundle a pagamento, che era in riferimento al concerto che si terrà comunque questa domenica sul sito Viola e in totale questo bundle conteneva una name card 1000 primo, appunto le ali e un furnishing particolare. Si pensa infatti che sia suddiviso in 4 pacchetti che ci arrivi in regalo e oggi sono arrivate in più queste due resine, quindi vedremo. Sicuramente hanno preso in considerazione quelli che sono i feed rilasciati nell'anniversario e questo lo troviamo anche nell'articolo rilasciato da Games Radar, dove troviamo appunto la notizia che la casa ha preso in considerazione tutti i feed appunto dell'anniversario e che sono in arrivo altre celebrazioni. Leggeremo l'articolo sicuramente nel dettaglio oggi, ieri abbiamo letto appunto nel particolare le dev note che ci sono state ad agosto e se volete ricercare comunque quella parte la trovate sul sito ufficiale di Genshin Impact. Oggi vedremo questo articolo nel dettaglio, io vi ricordo appunto che vado in live alle 14 sul sito Viola e trovate tutto in descrizione. Detto questo ci aggiorneremo presto con altre news e uscirà un video molto importante riguardo proprio la live che si terrà domenica dove sono stata scelta come ecostreamer ufficiale dell'evento. Quindi, detto questo, ci vediamo in live!